Allora, Navro è un'azienda nata nel 1997, è un'azienda certificata IGE 9001 con il Rina. Ci occupiamo di impianti elettrici navali e automazione navale in Genova. Viviamo in Italia e all'estero come ufficio tecnico di staccato. Attualmente siamo presenti con dei cantieri aperti in Olanda, abbiamo lavorato in Turchia, in Germania e in altre zone del mondo. Qui al Sidi che siamo presenti fin dalla prima edizione portando sempre in ogni edizione alcune novità come anche quest'anno portando una plancia integrata touch e un sistema di comunicazione per iPod e iPad che ci permette di interagire con il sistema di monitoraggio presente a bordo o per altri servizi legati sempre all'utilizzo dell'imbarcazione e della sicurezza.